E' l'Italia delle piccole imprese. Non spegnete questa luce. Grazie ad un accordo di collaborazione tra VFX Digital Art School, il Comfortigianato e Fondazione Villa Fabris tiene di venta un punto di riferimento per chi vuole accedere o già lavora nel mondo della computer grafica, grafica 3D, cinematografia e video production. Victor Perez, personaggio di spicco nel campo degli effetti speciali, artista che ha collaborato alla produzione di film come Il Cavaliere Oscuro, Harry Potter, Pirati dei Craibi, sarà tra i docenti di corsi di computer grafica che da quest'anno verranno attivati a Tiene in Villa Fabris. Un'opportunità rivolta a giovani che aspirano a lavorare in questo settore, come a coloro che vogliono affinare le loro conoscenze confrontandosi con artisti quotati, appunto, come Victor Perez. Un ambiente, quello della grafica 3D, dove circolano persone animate da una grande passione, consapevoli che ogni risultato è figlio di una ricerca continua, della sperimentazione e della disponibilità a diventare cittadini del mondo, a spiccare il volo. Per farlo ci vuole coraggio, oppure, come nel caso di Perez, una situazione in cui non si ha nulla da perdere. A cambiare la sua vita fu un evento tragico, il terremoto dell'Aquila. Per me è stato un punto di svolta, perché trovarmi nella posizione di lusso, diciamo, di non avere niente che perdere, mi ha portato a non avere paura di perdere nient'altro. Per cui è quello che mi ha spinto a poter seguire il mio sogno e decidere di non spostarlo più. Per cui da là sono andato a lavorare direttamente a Londra, dove ho incominciato una carriera, diciamo, anche se erano anni che stavo lavorando nel mercato degli effetti, ma per me è stata, diciamo, la scoperta a livello di produzioni internazionali, come con tutti i registi con cui ho lavorato, tipo Christopher Nolan, che da sempre quando io andavo al cinema, anche là all'Aquila dove studiavo cinema, sempre quando vedevo un film di Batman o un film di Christopher Nolan, che è il mio regista preferito, sempre dicevo un giorno mi piacerebbe lavorare con questo regista. e questa cosa di dire un giorno, un giorno, un giorno, quando è successo il terremoto, ho detto il giorno è oggi. VFX Digital Art School, Confartigenato Vicenza e Fondazione Villa Fabris, hanno stretto un rapporto di collaborazione in base a quale Villa Fabris ospiterà corsi di computer grafica professionalizzanti, come ha voluto sottolineare Victor Perez. Io quello che voglio offrire ai miei studenti è l'opportunità di imparare un mestiere, un mestiere artistico, che oggi è per me la cosa più importante, perché adoro fare questo lavoro, ma voglio poter aiutare a tutte le persone che come me avevano una passione e che vogliono svilupparla. Voglio portare la mia esperienza a livello formativo e a livello professionale per aiutare a tutte queste persone che vogliono saltare dentro al mondo dei visual effects. Proviamo a fare un profilo di queste persone. Che tipo di conoscenze di base dovranno avere? Per il mio corso, come stiamo portando diversi livelli al corso, non ci stanno bisogno di conoscenze previe. Certo, se uno porta un background va sempre bene, ma il mio corso iniziale, ad esempio di Nuke, di sei settimane, comporta il fatto che io devo incominciare da capo anche con le persone che già sanno qualcosa, perché tante volte quando uno impara da solo, quando impara con pezzi di informazioni di diverse sorgenti, comporta che a volte c'hai o dei buchi o dei pezzi di informazione sbagliata. Principalmente quello che si richiede è la passione. Una disponibilità che da modo ha confartigianato di incrementare i propri servizi volti alla crescita professionale degli operatori, in questo caso di una categoria, quella di grafica e CT, in continua evoluzione. Cerchiamo di creare per gli artigiani un'opportunità, anche un po' di curiosità, magari per quelli che non hanno mai visto, per cercare di vedere che crescano delle nuove aziende. Ci sono molti giovani, li ho già visti dentro, e quindi speriamo che questo serva per arricchire il territorio e per farci crescere tutti quanti secondo quelle che sono le linee più moderne delle nostre aziende. Questo è l'obiettivo che ha sempre cercato di portare avanti l'Associazione Artigiani, non solo di Vicenza. Per informazioni contattare VFX al numero in sovrimpressione o consultare il sito www.vfx.it